Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione in apertura del nostro telegiornale. La situazione Covid in regione, tre nuove vittime, 83 positivi riscontrati su 678 tamponi processati. Non si arrestano neppure i ricoveri, 10 nelle ultime ore che portano in totale a 110 il numero dei pazienti ricoverati tra Cardarelli, Santimotio di Termoli e il Gemelli Molise. Ma sentiamo da Anna Maria Di Matteo le novità. Covid non dà tregua in Molise, ancora tre vittime nelle ultime ore in Molise. Si tratta di una donna di 55 anni di toro deceduta al Gemelli, di una 53enne di casa Calenda che era ricoverata in malattie infettive e di un uomo di 69 anni di colledanchise deceduto in terapia intensiva. E non si fermano neppure i ricoveri, 10 pazienti ricoverati di cui 5 malattie infettive del Cardarelli, altrettanti nell'area grigia del pronto soccorso di Termoli, due dimessi dal reparto di infettivi dell'ospedale di Campobasso. Sono 83 i positivi sui 678 tamponi processati con il tasso di positività che sale al 12%. 14 casi a Termoli, 13 a Campobasso, numeri inferiori negli altri centri colpiti dal Covid, compresi quelli del Basso Molise. 67 le persone guarite. Continua a salire il numero dei pazienti ricoverati, 110 in totale. A Cardarelli sono 96 di cui 83 malattie infettive e 13 in terapia intensiva, 8 quelli che si trovano al Santimotio di Termoli e 6 al Gemelli. Gli ottalmente positivi sono 1.714. I pazienti deceduti dall'inizio della pandemia sono 336, mentre i guariti sono 8.107. Intanto va avanti la campagna vaccinale. Sono 17.654 i vaccini somministrati, di cui 10.994 prime dosi, 6.660 sono invece le seconde dosi. Le somministrazioni hanno riguardato sei vaccini Pfizer che Moderna e AstraZeneca. Con gli altri presidenti di regione abbiamo trovato un accordo su una serie di proposte da presentare al governo, ha detto il presidente Toma dopo l'incontro alla conferenza delle regioni. Chiediamo di semplificare il sistema dei colori da tre fasce a due, di avere un punto il martedì o il mercoledì per non arrivare all'ultimo minuto con l'assegnazione delle fasce e accelerare con i ristori e le vaccinazioni a riportarlo e il quotidiano la verità. Decisa la costruzione di un ospedale da campo a Termoli. Il provvedimento assunto dal presidente della regione Toma in veste di autorità di protezione civile. Operativi 25 posti di terapia subintensiva. La struttura verrà montata davanti al San Timotio. Sentiamo Pasquale Di Bello. Disposta a Termoli la costruzione di un ospedale da campo. La decisione è assunta la notte scorsa dal presidente della regione Donato Toma nella veste di autorità di protezione civile. Abbiamo la necessità di intervenire ad Oras nelle zone più colpite dalla pandemia, ha detto Toma, e non possiamo attendere lungaggini burocratiche. Per questo insieme al capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli ho assunto la decisione di costruire immediatamente un ospedale da campo a Termoli che oggi rappresenta l'area più colpita. Questa quindi la dinamica dei fatti che segue l'evoluzione della pandemia e il picco di contagi che si è registrato nell'area basso molisana. L'ospedale in questione che verrà gestito con medici e infermieri provenienti direttamente dalla protezione civile nazionale prevede la presenza di 20-25 posti di terapia subintensiva. Per il coordinamento delle operazioni sono arrivati a Termoli il capo della protezione civile regionale Brasiello e i vertici dell'Asdrem insieme alla Croce Rossa e al sindaco della cittadina adriatica Francesco Roberti. L'utilizzo dell'ospedale da campo come struttura di supporto è stata resa possibile grazie all'opzione esercitata nei mesi scorsi dalla regione Molise allorquando dalla protezione civile nazionale venne richiesta alle regioni una specifica manifestazione di interesse verso tale offerta. Mentre si allargano gli spazi disponibili e i posti letto resta sullo sfondo la carenza di personale nel caso di malattie infettive la situazione pur preoccupante è al momento sotto controllo a destare invece allarme e la mancanza di anestesisti per la terapia intensiva. Ad oggi in Molise sono stati individuati 12 punti vaccinali per coprire il fabbisogno di 136 comuni. Mi chiedo se non siano un po' pochi considerata la conformazione del territorio e i tanti piccoli centri dislocati soprattutto nelle zone interne. a chiederselo è il consigliere regionale 5 Stelle Fabio De Chirico. In questo periodo epidemico con il Molise zona arancione con parte della regione in zona rossa le istituzioni sanitarie dovrebbero operare per evitare gli spostamenti e potenziali assembramenti nei punti vaccinali. Questa è la considerazione di De Chirico. In Basso Molise prorogata e allargata la zona rossa fino al 7 marzo. Ai 28 comuni già in lockdown si aggiungono altre 5 paesi del distretto di Termoli. Ieri sera all'ordinanza del governatore Donato Toma ma sentiamo Andrea Nasillo. 33 comuni del Basso Molise saranno in zona rossa fino al prossimo 7 marzo. Ai 28 già in lockdown si aggiungono Bonefro, Lupara, Montelongo, Morrone del Sannio e Providenti. Lo ha deciso il presidente della regione Donato Toma che ha emanato una nuova ordinanza. Il governatore ha tenuto conto della relazione dell'ASREM. In sostanza la situazione epidemiologica non può far abbassare la guardia. L'allerta è alta e il territorio del distretto sanitario di Termoli va blindato ancora. Il provvedimento di proroga era stato annunciato nei giorni scorsi. andavano definiti solo i dettagli e l'esito emerge dall'unità di crisi di ieri sera. Intanto in Basso Molise gli amministratori si appellano ai propri concittadini a limitare gli spostamenti solo per motivi necessari, come tra l'altro impongono le regole. Il numero dei contagi preoccupa e drammatico e l'aumento dei decessi. Sul fronte delle fabbriche il bollettino settimanale vede un aumento di contagi alla FCA di Termoli, dove i casi sono saliti a 44 ma è sceso il numero di dipendenti in quarantena precauzionale da 54 a 42. Tutti i negativi, i tamponi rapidi effettuati a Ripalimosani nell'ambito dello screening di prevenzione contro il Covid-19 realizzato da Proloco e Comune. Sono state 303 le persone che si sono sottoposte al controllo. Per gli ultraottantenni il tampone è stato fatto a domicilio. Il personale sanitario si è messo a disposizione a titolo volontario e quindi anche gratuito. Sabato prossimo si darà un'altra opportunità a chi non ha potuto partecipare al primo screening. Nuova stretta sui divieti a Termoli. Il sindaco Francesco Roberti ha emanato un'ordinanza con la quale chiude anche i barbieri e i parrucchieri. Sospese tutte le attività sportive e le celebrazioni liturgiche in chiesa. Roberti nel suo videomessaggio invita la popolazione a rispettare le regole. Sentiamo Manuela Iori. Nuova stretta a Termoli per provare a mettere un freno alla diffusione del contagio. Il sindaco Francesco Roberti ha firmato un'ordinanza che da domani e fino al 3 marzo stringe ancora di più il cerchio delle cose consentite. È vietata la vendita per asporto e resta consentita solo la consegna a domicilio, così come è vietato sostare all'interno e all'esterno delle ricevitorie in attesa del risultato delle giocate. Sospese tutte le attività sportive negli impianti pubblici e nei circoli privati, resta consentita l'attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione. Sospese le attività di barbieri e parrucchieri, i centri estetici continuano a restare chiusi. Da domani non saranno possibili più nemmeno le celebrazioni liturgiche nelle chiese. I funerali saranno consentiti esclusivamente presso la cappella del cimitero. Vi raccomando, continuiamo a tenere alta la guardia, a rispettare le regole, mascherine, distanziamenti, evitiamo gli assembramenti, evitiamo soprattutto di frequentare i luci chiusi ed affollati evitiamo tutte quelle azioni che possono in qualche maniera consentire i contagi. La variante del coronavirus che attualmente esiste a Termoli e in altre realtà del Molise è una variante che ha caratteristiche ben diverse da quella che finora in qualche maniera siamo riusciti a contenere. È molto più diffusiva e soprattutto è molto più virulenta. Le patologie che questa in qualche maniera manifesta sono più gravi di quelle che finora abbiamo potuto osservare e soprattutto a detta dei medici colpisce una fascia molto più ampia. Anche i giovani, per questo richiamo al buon senso delle famiglie e soprattutto richiamo i tanti giovani a comprendere che ora il grado di pericolosità di tale situazione è ampliamente aumentato. Convido in tutti voi e vi ringrazio. Ed ora vi proponiamo la drammatica testimonianza di un ex sindaco di Isernia, Domenico Testa, ricoverato per Covid-19 al Cardarelli e uscito guarito dall'ospedale ma dopo una lunga e sofferta della degenza e dopo aver visto morire tutti i suoi compagni di stanza. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Un'esperienza drammatica sapendo che la vita ti può sfuggire di mano da un momento all'altro ma un'esperienza che ha mostrato i lati migliori di chi lavora in corsia al Cardarelli per alleviare le pene dei ricoverati. Ce la racconta l'ingegnere Domenico Testa, l'ultimo sindaco democristiano di Isernia ed ex presidente della Camera di Commercio, un professionista conosciutissimo nel capologo Pentro che se l'è vista brutta ma è riuscito a venire fuori indenne dall'incubo del Covid-19. La mia esperienza è stata un'esperienza drammatica perché in un primo momento ho avuto difficoltà a farmi ricoverare perché c'era la tendenza a far rimanere a casa anche coloro che avevano il virus consolidato, però sono riuscito ad essere ricoverato perché si è trovato un posto finalmente e quindi sono stato al Cardarelli per oltre 25 giorni. In questi 25 giorni ho visto di tutto, ho visto morire tanta gente, ho visto in che modo il personale si approcciava con i singoli malati e in questa circostanza lei mi dà l'occasione per poter ringraziare totalmente tutti dal primario all'ultimo degli inservienti perché hanno avuto una disponibilità e una capacità di capire le sofferenze che avevano coloro che erano ricoverati veramente ammirevole. Non c'è stato mai un attimo in cui hanno avuto un atteggiamento ostile, un atteggiamento veramente ammirevole. Sono stati dei santi e quindi ringrazio tutti quanti per quello che hanno fatto. E che cosa succedeva attorno a lei, ingegnere, in quei momenti così bui e disperati? Ho visto morire sei persone, la stanza era di quattro e quindi a giro sono morti tutti quanti ed io mi sono salvato. Ho avuto paura di non farci, ho avuto paura, proprio anche sono stati momenti di sconforto generale, però devo dire che l'aiuto del personale, la mia stessa forza interiore è stata tale che sono riuscito a venirne fuori. Ma vedevo che gli altri, chi era insofferente e non sopportava la maschera, chi si abbandonava perché la sofferenza era talmente forte che volevano morire. Che cosa le mancava di più? Che cosa l'angosciava? Steso in quel letto d'ospedale con la disperazione e la paura di non farcela? Potrei fare un appello se fosse possibile, considerato che ci sono ore e ore e ore di solitudine totale, perché stavamo là nel letto eccetera, se ci fosse la possibilità con una specie di radiodiffusione, per esempio mandare, c'era proprio l'esigenza che veniva richiesta anche dagli altri amici che poi sono morti, per esempio la messa, le preghiere, cioè mi sembra veramente che questo potrebbe essere un aiuto straordinario per tutti coloro che in quel momento stanno soffrendo e vivono una solitudine totale, perché al di là del fatto di quando arriva il dipendente per farci mangiare, per curarci eccetera eccetera, per il resto del giorno delle 24 ore siamo soli completamente e quindi il comporto della religione potrebbe essere di grande aiuto a tutti quanti. Cambiamo argomento, sei dosi di cocaina e eroina già confezionata, il risultato di una perquisizione effettuata dai carabinieri durante controlli stradali nel Basso Molise e Bifernina nell'auto di due fidanzatini fermati dai militari. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione di stupefacenti. Nei guai anche un pregiudicato originario di Santa Croce di Magliano anche gli è trovato in possesso di una dose di cocaina. L'associazione di ristorazioni, ristoratori Foodies Green di Isernia ha incontrato in questi giorni il sindaco Giacomo D'Apollonio e il partito paneuropeo Volt per presentare obiettivi e iniziative dell'associazione. Barbara Fini. Un incontro proficuo, quello tenutosi tra l'associazione Foodies Green, nata lo scorso dicembre per iniziativa di alcuni ristoratori locali e il primo cittadino di Isernia Giacomo D'Apollonio. Durante il confronto l'associazione ha illustrato i propri obiettivi al sindaco, fondere l'alto livello di competenze gastronomiche con le attrattive e la bellezza del territorio della provincia di Isernia con il supporto anche dell'amministrazione comunale soprattutto in questo delicato periodo storico. Il sindaco D'Apollonio si è subito reso disponibile sia negli incontri sia nell'approcciare le nostre richieste. Subito ha voluto conoscerci, subito ha dato spazio a noi e quindi alle nostre idee, subito ha dato l'ok per patrocinare le nostre iniziative e per venire incontro alle nostre varie necessità. Da necessità e l'importanza di innovare ma soprattutto di creare una rete. Questa è l'esigenza dei ristoratori che è stata espressa anche durante un altro incontro, quello con il partito paneuropeo Volt in uno degli appuntamenti di ascolto sul territorio e dove l'associazione guidata dal presidente Mario D'Alessio si è aperta al confronto e al dialogo con i giovani volontari Volt. È stato un confronto utile, abbiamo presentato le nostre idee, i nostri obiettivi che sono progetti ambiziosi che non si fermeranno sicuramente quest'anno ma avranno un orizzonte temporale molto largo e molto lungo. Nuove idee, molte risposte e tanto entusiasmo da parte di tutti gli interlocutori che si sono ben espressi verso la neonata associazione che è già all'opera con un'iniziativa di rilancio turistico ricettivo Molise Last Minute. Il turista può prendere in considerazione la nostra proposta fatta dall'associazione Foodies Green in collaborazione con Roberto Colella dove praticamente può visitare parte della nostra regione e soprattutto anche della nostra isegna, i vicoli del centro storico e quant'altro. È abbinata anche una delle nostre attività che a turno ospiterà appunto questi turisti che faranno il giro della nostra regione. La possibilità dunque nei prossimi weekend di scoprire i luoghi storici, culturali e naturalistici dei territori circostanti e di fermarsi poi a gustare un buon antipasto di formaggio e salumi locali o un buon primo piatto al tartufo accompagnati da un vino molisano doc. E in chiusura di telegiornale vogliamo fare le nostre condoglianze alla famiglia di Anna Colavecchia di Frosolone, ex collaboratrice della nostra emittente. Alla famiglia Colavecchia le condoglianze dell'editore Quintino Pallante, del direttore Emanuela Petescia e di tutta la redazione di Telemolise. Questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Telemolise.